Leggerò dal libro di Gigi Di Fiore, Pandemia 1836, la guerra dei Borbone contro il colera. È un volume che è uscito nel 2020 in piena pandemia Covid. Faccio presente che il colera si era già diffuso nel 1836 in tutta l'Asia, in tutta l'Europa, a partire praticamente dal 1817, ma nel 36 fu l'anno in cui colpì anche il regno delle due Sicilie, 36-37. Queste pagine che sto per leggere descrivono le azioni che il re Feldinando II mise in atto per impedire al colera di raggiungere la città di Napoli. È il capitolo terzo che si intitola Il re interviene. Tenendo Ferdinando II nell'animo suo la massima che chi fa leggi deve essere il primo ad osservarle, negli è in questa occasione luminoso esempio, avendo voluto trattenersi nella rada per eseguire la contumacia e non avendo voluto sbarcare che dopo quattro giorni, malgrado le istanze che gliene fossero state fatte. Antonio Parisi, annuario storico del regno delle due Sicilie, dal principio del governo di Ferdinando II Bolbon, primo settembre 1836. L'unico rimedio possibile era dunque isolare, chiudere, impedire l'ingresso nel regno di possibili contagiati. Una stretta sulle coste delle due Sicilie, da sorvegliare anche con i militari, Ferdinando II si affidò a ufficiali dell'esercito energici per impedire attracchi e sbarchi dei contrabbandieri di merci. Sarebbe stata la prima azione di prevenzione del morbo, spiegata in un decreto firmato dal re il 5 agosto 1831. Un suggerimento del segretario generale del Supremo Magistrato di Salute, Onofio Garofalo, e del 53enne ministro degli affari interni Giuseppe Ceva Grimaldi Pisanelli, marchese di Pietracatella. Il re nominò sette commissari in altrettante province delle due Sicilie per la conservazione della salute pubblica. Faceva capolino per la prima volta in un atto ufficiale l'inquietante termine Corera Morbus, la rapidità con la quale va dilatando in diverse contrarie di Europa, ha richiamato la nostra sollecitudine, veniva spiegato nel decreto. Gli uomini più adatti al nuovo compito furono individuati tra i marescialli non impegnati in ruoli di comando. A tutti venivano dati poteri di alte regole del re, sul cordone sanitario che obbligava alla quarantena le navi in arrivo dalle regioni dell'epidemia di Colera. Per l'equipaggio le merci significava un isolamento a bordo di almeno 15 giorni. L'obiettivo, scriveva Ferdinando II nel decreto, era garantire i nostri stati dal pericolo di questa malattia. Ai commissari alter ego sarebbero stati forniti strumenti anche giuridici, adatti a intervenire con energia se fosse stato necessario. Via violare le limitazioni significava rischiare grosso. In un secondo regreto sarebbe stata prevista addirittura la pena di morte. Avrebbe commesso un reato grave chi non rispettava i cordoni sanitari, chi sbarcava e commerciava merci di contrabbando, ma anche chi accompagnava in segreto persone sulle coste delle due Sicilie. Il via libera all'ingresso del regno era possibile con una patente sanitaria da richiedere. Chi tentava di falsificarla rischiava la pena di morte. La competenza sui processi veniva affidata a commissari militari su denuncia degli alter ego. Era una guerra affidata ai militari, ma non solo a loro. Alla sorveglianza delle coste potevano contribuire civili e decine di uomini abili alle armi e offrire volontari. Era una collaborazione autorizzata dalla legge e la paura dei contagi divenne con molla convincente alla denuncia dei possibili autori. Pure i pescatori furono sottoposti a dei vincoli. Prima di uscire per il mare dovevano chiedere le indispensabili autorizzazioni sanitarie, indicando tutti i nomi di chi si imbarcava sui pescherecci. Sul giornale del Regno delle Due Sicilie, che riportava le notizie ufficiali del governo, cominciarono a leggersi i primi trafiletti sulle prescrizioni. Per sorvegliare la costa adriatica, il 20 agosto si erano messi in navigazione tre brigantini, due golette e dodici tra lancioni e barche cannoniere che dalle coste a nord del Regno potevano spingersi fino alla Sicilia. Il re cominciò a ricevere, e se ne compiaceva, i primi consensi alle sue iniziative. Gradì molto gli apprezzamenti dei diplomatici stranieri accreditati a Napoli. Si faceva sul serio sulla scia dell'emozione per le nozioni sui contagi, che arrivavano da Russia, Polonia, Germania, Austria, Inghilterra e Francia. Si faceva sul serio, e gli alter ego, che si vedevano piovere sulla scrivania decine di inaspettate segnalazioni in prevalenza anonime, cominciarono a intercettare a prodi non autorizzati, in gran parte in barcazioni avvistate dai pescatori. Le più temute erano le navi in arrivo dalle coste francesi, dove l'epidemia era più violenta. Gli equipaggi venivano bloccati nei porti delle due Sicilie e non potevano sbarcare. Venivano messi in contumacia, che significava tenere fermi sulle navi per 30 giorni le persone e per 40 giorni le merci. Non si facevano eccezioni, e molto rigore fu usato pure per quattro corvette e una fregata americana, che prima a Siracusa e poi a Napoli rimasero ancorate per più giorni senza autorizzazione allo sbarco. Il pericolo del colera aveva la precedenza sugli interessi commerciali. Vado più avanti. Al paragrafo 3.2. Nasce la Commissione Superiore di Sanità. L'ottimismo si alternava al pessimismo. Le buone notizie con le cattive. L'epidemia si sta fermando in Europa? No, avanza. I morti aumentano? No, diminuiscono. Le cure sono state trovate? No, non esiste rimedio sicuro. Il 1832 fu uno a cavallarsi di notizie che puntualmente il giornale del Regno delle Due Sicilie riproduceva. Il re non era sicuro che fosse un bene eliminare le restrizioni anche sulle coste pugliesi. Indugiava era preoccupato per tutto quello che si sentiva sull'Inghilterra e la Francia. A Parigi, dove venivano resi pubblici con puntualità i bollettini sull'andamento e rapidità del morbo, nell'aprile del 1832 erano stati registrati 7.631 morti di colera. La maggioranza, 4.068 persone, aveva voluto farsi curare nella propria casa, temendo l'ospedale. Il rischio che l'epidemia sconfinasse nel Regno non era scongiurato per il momento. Ferdinando II rimase fermo. Non era intenzionato ad allentare i freni e agì infischiandosi delle pressioni dei commercianti pugliesi. Consultò l'esperto ministro Sant'Angelo, che conosceva bene le leggi e riceveva dagli intendenti provinciali periodici rapporti sugli umori pubblici. Si convinse che, oltre ai blocchi sulle coste adriatiche, fosse necessario dare più peso alla commissione voluta dal suo predecessore, Marchese di Pietracatella. Per farlo bisognava coinvolgere più persone in grado di dare contributi concreti alla decisione sanitaria. Sant'Angelo si confrontò con il re e con Onofrio Ganoforo, fresco di nomina al vertice della Sovintendenza Generale di Salute. Dai loro colloqui nacque un regolamento su cui mise lo zampillo anche il professore Ronchi. Nelle intenzioni doveva essere un insieme di regole e prescrizioni da seguire nel caso il morbo asiatico si fosse diffuso nel regno fino ad arrivare nella capitale. Lo definirono regolamento generale per difendere la città di Napoli dal colera morbo. Il re lo trovò buono, ricco di indicazioni insensate, e lo firmò l'8 marzo del 1832. Conteneva tre ipotesi di penetrazione dell'epidemia, con scenari e interventi diversi. Si partiva dall'arrivo del colera dalle coste dell'Adriatico, la zona più fragile ed esposta per la sua vicinanza con i paesi dell'Alta Italia. Chi predispose il regolamento pensava che, per affrontare un'emergenza di eccezionale gravità, bisognasse avere una visione complessiva dei diversi territori, un quadro di insieme non scordinato, che solo una commissione unica, battezzata ora come commissione sanitaria centrale, avrebbe potuto avere. Mi fermo qui, il libro lo ritengo molto avvingente e stupefacente rispetto alle azioni che sono state fatte all'epoca e anche la sovrapposizione con quello che sta accadendo in questo momento con la pandemia del Covid. Vi ripeto, il libro è Gigi di Fiore, Pandemia 1836, La guerra dei borbode contro il colera, edito dalla UTET nel 2020. Grazie.